Salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono T e come potete vedere siamo tornati su Bear with me, allora praticamente l'anno scorso come vedete il 28.08.2019 è uscito un DLC chiamiamolo così, un gioco secondario di Bear with me chiamato The Lost Robots, cioè i robot scomparsi, è un prequel dove vediamo il fratello di Amber di cui al momento non ricordo il nome e Ted Bear, il nostro caro investigatore un po' sarcastico, un po' ignorantone, che dovranno affrontare appunto questa avventura alla ricerca dei robot scomparsi. Qui nelle sagome vedo un po' di volti conosciuti ma penso che questo sia perché vendono la Complete Edition che io a questo punto vi consiglio perché Bear with me è un gioco che mi è sempre piaciuto e come da buona abitudine inizio questa serie senza la webcam, poi vediamo se l'aggiungerò ma non penso proprio. Bene, direi di non perdere troppo tempo e di fare nuova partita. Wake up Ted. Wake up. Bear, wake up! What in the? Why are you yelling? You passed out. No. I was just... just resting my eyes for a minute. Shut up and listen. I was in the auditorium just now and saw some commotion up here. Up here? It seems someone snuck up on you and hit you over the head with that bottle. Sure. Why not? That's what happened. I think whoever knocked you out locked the door behind me. Wait. We're locked in. Most definitely. Hmm. Any other essence? Okay. Allora, vorrei fare una piccola premessa prima di iniziare a giocare. Vi consiglio caldamente di vedere prima la serie di Bear with me classica perché sono sicuro che ci saranno degli spoiler all'interno di questo prequel e sono sicuro che li farò io perché mi sarà difficile non fare paragoni con quanto abbiamo visto insieme a Ember. Ember mi pare si chiamava la ragazzina. Quindi la classica bottiglia di succo di carota. Quindi mi raccomando guardate prima quel video perché rischiereste di rovinarvi alcune sorprese, alcune svolte di trama che sicuramente qui ci saranno. Allora, la porta abbiamo detto è chiusa. Quindi, pellicole di film. Ah, siamo ragazzino. Ok. Almadietti. Eh, e aprirlo no, eh. Va bene. Come vuoi. Proiettore rotto. Broken. Can you fix it, Bear? No. Besides, there's literally another one that works right next to it. Hmm. Maniglia del proiettore. I can't move the projector right now. It's locked in place. Ok. Muoviamo la maniglia. Chissà se ci fanno vedere che film stavano proiettando. Pronto, ok. Supporto per pellicole. Vediamo un po' se me lo fa prendere. No, io volevo vederlo. Va bene, non ce lo dice. Spostiamo il proiettore. Ah, ok. Ci sono dei... Dei bulloni. Cosa sono? Ok. Quindi ci serve una specie di chiave inglese. Prendiamo intanto il lenzuolo che potrebbe tornarci utile. Yes. Abbiamo un inventario come nell'altro. Biglietto del Cinema Luxe e lenzuolo bianco. Ok. Come al solito i colori mancano. Vediamo un po' cosa abbiamo preso. C'era un modo per vedere? No. Pellicola di film spessa. Magari la proviamo col proiettore. Appunto. Ok. Giusto. Scusate, alzo un pochino... ...la musica. I dialoghi un pelino. Gli effetti sonori possono andare bene. Ok, applica. Continua. Musica non ce n'è per niente al momento. Io sinceramente non ricordo se... Ah, finestra. Ok, va bene. Dobbiamo prima togliere il proiettore. Possiamo andare di qua? Direi proprio di no. L'armadietto abbiamo detto che non ce lo fa toccare. La porta, vabbè, nemmeno ci provo. Pellicola di film. Tavola a tre gambe. Ah, casetta degli attrezzi. Ok. It's a wrench. I'll take it. Perfetto. Quindi. Non ricordo come si fa. Ma immagino così. Base del proiettore. There. We should be able to move it now. Perfetto. Quindi. Proiettore. Prima Gia. We can get a bit closer to the window now. What are you even doing here? It was your sister's idea. It's... This whole thing. Hey, where is she? How come you're here? She had to take care of something. She asked me to step in for a bit. She did? That's what I just said. Hmm. Anyways. I'm not explaining all of this to you. Why not? You'll be gone as soon as Amber gets back. So what's the point? We both know this detective game isn't your cup of tea. Superhero boy. She... She what? Where is she? I told you. She had something to do. You know, in real life. Hmm. She hasn't told me anything. Partono subito con real life. All the sounds. Really strange, kid. You know that. Look. You can talk to her when she gets back. Get off my case. Fine. Let's focus on getting that out. Let's go out of here first. And then I'll brief you in. Okay. Allora. Qui diceva di utilizzare... Can't use the film there. Aspetta. Allora la usiamo. La usiamo. Sul proiettore. Can't use the film there. Ha supporto per pellicole. Quanto specifico. Vediamo un po'. Now if I could tie this to the window, maybe we could use a projector to pull it open. Bella idea. Ok. Che giro. This could work. Bear. The film looks strong enough. Go for it. I can't use it now. The project will slide back again. Ah, giustamente. Allora. Perfetto. Let's lock it in place. Ok, maniglia del proiettore. E la finestra. Great job, kid. Vandalism at its best. Non riesco a ricordare come si chiama il ragazzino. Probabilmente l'ha anche detto adesso, ma non mi viene proprio in mente. Non ho fatto attenzione. It's too high to jump. We need some kind of rope. Ah, questa può andare. This sheet is too short by itself. E che rottura di scatole. Ehm, allora. Che abbiamo qui? Un biglietto, ma non penso ci serva. Pellicole di film. Armadietto. Lenzuolo bianco. Ok. Sì. Stavo pensando la stessa cosa, Ted. Perfetto. Questa un po' la ricordavo, che Ted in realtà era sempre stato con Amber e non con il ragazzo. Non c'è nessuna cosa. Non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna cosa? C'è nessuna cosa? Sono fatto di spazio. In ogni caso, andiamo a andare. Andiamo a dove? Che stavatevi anche qui? Ok, un breve brief. Robots are disappearing all over the city, and their union hired me and your sister to find out who's behind it. And? And what? Who's behind it? What to you? We're in the middle of the goddamn investigation. Sounds like sloppy work to me. Yeah, like you'd know what work sounds like. Fair enough. There was this guy who went missing. Robbie. Left a coat behind with a movie ticket. So? The date on the ticket. It was the same night he went missing. Ok, I get it. Anyways, I didn't find anything. But, somebody else was apparently bothered by us snooping around here. That's good. How's that good? Relatively. It means we're on the right track. Let's go back to the entrance. Rossum, the old robot who works here. He must have seen someone enter after us. To the entrance, Ted. Keep it down. God damn it. What is this? Loud idiot day? Ok. Allora. Ah, ok. Compaiono anche i titoli. Bello. Lux, questo era... Se non sbaglio... Vuoi dire qualcosa? Ecco, l'hanno rapito. Questo era il menu del primo gioco. Is trust not valued anymore by your generation? I can't tell if you're being serious. I'm not. Where the hell is this Ross guy, Ted? Rossum. And I don't know, kid. He was here before. He let me in. There are bolts all over the floor. And it kind of looks like... God damn it. You think? He's gone, kid. Whoever locked us in there. They've got him now. So? Now what? Look around for a bit. See if you can find anything. Sure. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Non era lui che non voleva guardare nei rifiuti? Just trash. I don't feel like going through it. You and me both, kid. Va bene. These screws. They belong to old Rossum. Certo, chiaro. Stainless steel. All the robots are using them. Plus, they weren't here before. Prendiamole. I'll pick them up. Ci possono tornare utili. Volantino di un locale. It says, get your ass down in Jungle Jazz Bar this weekend and try our famous Southside Fizz. One free drink with this coupon. Take it with you. I feel like it's an important clue. Non è per il drink, vero? The coupon part was torn off dead. Throw it away then. Who cares? Lo sapevo. Ero convintissimo. Qui c'è un paletto rotto. Vediamo un po' che mi dice. Planety Cheese. I'll take it with me. I could use it as a club maybe. Cosa? Ah, ok. This could only really stop you, Bear. Was that a short joke? Ah, a short joke. Ecco perché bisogna tenere sempre l'audio originale, ragazzi. Nah, I don't want to sell tickets. Ok, allora. Vediamo un po' che stavano proiettando. Distant Whaling. Ok, Robot Union. Novembre 28 alle 9. 28 alle 9, sì. Allora, qui che abbiamo quindi? Un volantino, dei bulloni e un paletto. Va bene. Possiamo andare da qualche parte. Paper City. Direi di andare a Paper City. Let's head back to the Union and report to Lifty. Never took you for the buy the book guy. Me neither. But what else are we going to do? Stand here like a couple of boobs? I mean... Il sindaco dovrebbe essere ancora il maiale, immagino. Ah no, robotico? Sindacato robotico, non il sindaco. Avevo capito Meyer, sindaco. Poi ho letto veloce e non l'avevo visto. Ok. Non c'è altro dove possiamo andare. Qui non c'era la scritta della città, qua dietro. It all started a couple of days ago. I just got released from the hospital after two weeks of intensive care. I got messed up bad. I got messed up bad. And by her of all people. That she was always on the emotional side. And when her blood gets to boiling, all hell breaks loose. It's what I really liked about her. And I just got stuck out. I got stuck out of the hospital. The blood grazed my left ear, the doctor said. And if it weren't for the fall, I would have gotten away unscathed. But then, I wouldn't have learned anything. She tried to do me in. That much is clear. I can't really hold it against her. Not after what I did. And I'd rather have her do it, than some lowlife down at the docks. No point in crying about it, really. No point in doing anything at all anymore, I thought. Amber pulled me out of it for a while. Made me take on this case. I guess it's better than doing nothing. I have to keep my mind busy. When I'm left alone. I tend to languish. Anyways, this case. It's all sorts of wrong. Someone is hell bent on taking all the tinheads out of commission. Parts are being left behind in dark alleys. Mouths are being kept shut. And blind eyes are being turned. Ricordiamoci ragazzi che tutto questo è nella fantasia di questi due ragazzini. Lifty Warkovski. Head of the Robot Union. Odd Broad. She was the one who called us. I guess having all them robots missing is starting to reel in some real bad rap. After this last guy, Robbie disappeared. We went snooping around his place for a bit. There was nothing out of the ordinary. But we found this ticket stub in one of his jackets. Not much of a lead. But it was the only one we had. Chissà se andremo anche fuori da Paper City. Amber was supposed to meet me at the cinema. But she was a no-show. Flint's a good kid. Flint. I have nothing against him. But we never spent all that much time together. Seeing as all the women in my life decided to collectively quit. I guess this is as good a time as any. I just hope the kid won't slow me down too much. Well, you sure slowed us down back there. I'm shorter than you, goddammit. I can't walk as fast. Well, maybe if you would pick up the pace a little, I wouldn't need to wait on you. Pick up the pace? It's not... It's not all about the steps I was kid. It's always someone else's fault when things don't go wrong. I'm shorter and therefore have shorter steps. It's basic physics. What are you? You could have walked a bit slow as I'm saying. Who's this kid now? This is Doug. Dougie. He sells insurance. Name's Flint, ma'am. I mean, really? Ted? How many of these kids do you intend to put in peril? Is the girl dead already? She's fine. He's staying in for a bit. Ah, era una domanda, okay. Listen, we were at the cinema just now. We found a ticket stub in Robbie's jacket. I imagine so. The union had a meeting at the Lux that night. And you thought now was a good time to mention this? You're a real piece of work, you know that. Oh, careful, you don't fall off that high horse, Bear. You seem fond of falling lately. Fine. Whatever. Anyways, There was another one tonight. You ruined another bar owner with your excessive debt. Rossum Heal, the old guy who sells tickets. Know him. Yeah, but... He went missing tonight. Holy motherboard. Ted, you need to do something. This is starting to look really bad. Yeah, starting to anyways. Wanted to let you know you're off the paper daily. Robbie worked there, right? He was an accountant there. Go, you two. Get there fast. As fast as our feet will carry us. Which, in his case, turns out it's not that fast. Don't you own a car? You're like 40. A car? He barely owns a pair of pants. I like this kid. Where did you find him? He was on sale down at Stupid Kids Depot. I'm all set. Get out of my office, Bear. And next time, show me some results. Yeah, yeah. See you. Guardando qui, suppongo che già conosciate la storia di Flint. Quindi non farò finta di ignorarla. Questo molto probabilmente sarà l'ultima... L'ultima volta che Flint... Sarà ancora vivo. Perché... Ok, andiamo al paper daily. Perché appunto scoppierà l'incendio. Probabilmente alla fine di questo prequel. Ehi, Sam. Ted, you're healing up nicely. Only on the outside. I went to see you at the PC General. You're out cold, though. That morphine. Let me tell ya. Literally the only good thing about that place. Yeah, plus all the healthcare. Sure. If you're into that sort of thing. Listen, Sam. I didn't come here to reminisce. Right. You're here because of Robbie. How could you know that already? It's his job, kid. There's a saying in Paper City. When in doubt, ask Blabbermouth. There's a saying like that? No. I just made it up. Catchy. I thought no one would be here this late. You mean OCD? He's always here. I'd rather if he wasn't. Why? You plan on doing something shady? Only if you consider breaking and entering shady. Go ahead. OCD is arranging tomorrow's print. I'll cover for you. Thanks, Sam. I owe you one. You owe me more than one bear. I keep a tab. I got him. You, lowlife. I missed you. Good thing, Betty's not a great shot, buddy. It's nice to have you around. Ok. OCD. Bacheca di OCD. Clear thinking. Clear statement. Accuracy and fairness. Ok. Articoli di giornale. Non penso nemmeno che c'è il libro da guardarlo. Ok. Carina. Va bene. ok qualcosa di interessante vabbè la vista che è dove lo troviamo? no non è vero comunque ci siamo stati lì sbaglio pile di scartoffi vabbè lasciamo perdere andiamo direttamente da OCD parliamo buonasera signor Camarionte ah così va bene e io guardo qui posso prendere qualcosa? andrà avanti all'infinito smetterà prima o poi e se io glielo rirubo? ok possiamo andare avanti all'infinito perfetto qui è la mappa no io non volevo andare alla mappa volevo ah no non l'ha preso alla fine batteria d'emergenza ok ok e se io la prendo ok leggiamo gli articoli giornali ok mi sembra giusto simpatico posso prendere un bicchierino la forma è quella ma sbaglio o in questo capitolo o in questo capitolo giocano più sul fatto che è tutta immaginazione ok qui qui c'è di c'è sitting man stands up for himself ok va bene ok ok sono una coppia un po' scontrosa ok tanti schedari immagino che non ci sia niente di utile qui bruttissima questa cosa io vorrei comunque ricordare che questa è la fantasia di due bambini in questo caso potrebbe anche essere la fantasia di una sola perché è scomparsa ember quindi la butto lì teoria dei primi 20 minuti di gioco potrebbe essere che questa sia ember che si sta ancora immaginando l'esistenza del fratello e questo potrebbe essere un bruttissimo segno perché ricordiamo che ember è quasi impazzita con la morte del fratello immaginandoci questo farà pescare a ted ricordiamoci dicevo che è quasi impazzita con la morte del fratello e ha creato il rosso dalla sua fantasia e quindi potrebbe anche starci che nel primo periodo in seguito al lutto abbia avuto dei pensieri non proprio piacevoli macchina da scrivere tempera matite vediamo il calendario ok si questo lo sapevamo ok macchina da scrivere non si può prendere va bene c'è uno scatolone ok pila di scartoff abbiamo detto di non pensarci mi prendo il tempera matite che fa sempre comodo ok non posso non mi sembra quindi di vedere altro ma dietro degli alcolici c'è il diploma ma non penso che ci serva ok 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 come aprire questo non mi sembra di vedere niente in effetti è vero scusa le impronte digitali di un robot e come come la risolviamo questa ok abbiamo qualcosa no no ci servono le impronte digitali eh il volantino ok vite bulloni non penso quindi ha bisogno di impronte digitali quindi ha bisogno di impronte digitali abbiamo qualcosa potrebbe dare impronte digitali la macchina da scrivere ok non la posso prendere la pagina va bene lampada da scrivania ok va bene mi sembra che non ci sia nient'altro da toccare qui tante pile di scartoffie ma non penso che vanno guardate tutte ok torniamo in redazione vanno da soli ok giustamente ok ha salvato ottimo allora pile di scartoffie pile di scartoffie direi di andare avanti altri 2 o 3 minuti e dopo ci salutiamo abbiamo anche fatto un achievement non so se voi lo leggete allora non mi sembra di vedere niente questa però è colorata diversa ok nada tu puoi dirci qualcosa ok aspetta se io faccio così no ok intanto che lui fa così io prendo questo ok mi serve comunque qualcosa con cui sostituirla però io non ho visto niente di ah ci ha sbloccato una zona sulla mappa vediamo dove ok perfetto c'è un topo non ho intanto l'altro non ho intanto l'altro non ho intanto l'altro enough with the pros Ted added up to his nose we need to get down there somehow and we'll get your cheese too while we're at it don't worry buddy ok all the blessings to you Snoop you two go ahead I need to go um let's go faster Ted amazza che corsa does he speak exclusively in rhymes well he is a poet and he does seem to know it hmm doesn't seem to be a good one what gave it away the homelessness anyways you need to get down there me who else eeks he's like a hundred what about you huh closer to 45 kid we don't have all night we need to get you down there fine whatever vabbè qui c'è un'insegna abbastanza chiara I aspetta well it looks like there's fall damage also the hint is kind of blatant just don't jump down is what I'm trying to say ok me lo fai fare adesso nah I need to scusami scusami mi sembra mi sembra abbastanza evidente questa cosa scusate sono scemo io le figure sono queste tiè va bene fai come vuoi allora va bene non cadere qui c'è un'impalcatura che c'è scritto qui mind the gap you mind the gap I'm just reading the sign oh right well mind it then it's a steep cliff mind the gap traduzione italiana you mind the gap I'm just reading the sign mh va bene ok barattoli di vernice me li prendo I'll take it with me maybe I'll get inspired si mucchio di terra it's just dirt ok la palla la posso prendere si chiaro I'll just take it hope no one will miss it ok qui non c'è niente cariola si lasciamo perdere il tipo la casa non penso ci serva ok buca ok stavo per dirlo io si va bene avevo capito quindi questo qua ok questo dove sta dammi la pala qua e vabbè addirittura eeeh 15 minuti quanto tempo amico mio ok ok what I mean you didn't have to throw the shovel into the river why not I need it again nah we won't perfetto quindi ci servirà sicuramente ne sono proprio convinto al cento per cento ok ok direi di andare sotto oh boy is this him used to be what do you think happened I don't I don't know you need to get him out any ideas not at the moment hey on the blood side there's the cheese dove hai visto tu dove quella è una medaglia è quella non so fosse una medaglia just forget about the cheese oh no Ted please no I didn't mean it like that eeks oh my god cosa che hai visto qui c'è un braccio stavo leggendo le cose qua dietro I don't like a thing tunnel cake tunnel cake's rule io continuo a ricordarvi che questa è la fantasia di due bambini ok qui c'è un braccio ok aspetta ha veramente detto maybe he can come handy cioè handy eh però scusa era una buona idea c'è un secchio lo prendo fango gambe ah lo ricostruiamo certo ok gancio ok 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 dito intanto prendiamo i pezzi dopo vediamo lì potremmo metterci il secchio per salire più in alto un dito e che hai visto prima amico mio ok che abbiamo quindi un dito secchio barattoli di vernice e bulloni se io mettessi il secchio qua potrei usarlo per salire qui si posso salire a proposito ok 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 qualcos'altro i barattoli di vernice si riappendo ok perfetto ok qui non si può salire c'è rimasto il formaggio che a questo punto non abbiamo niente per prendere potremmo rompere in qualche modo forse il ramo e dobbiamo prendere il resto del corpo e come facciamo però ok no scusato ho sbagliato ok non abbiamo quindi niente per raggiungerle ok un braccio un dito vabbè il dito lo possiamo mettere qui ok mi sembra che non abbiamo niente da niente per prendere questo il busto qui non mi pare ci sia altro c'è rimasto questo ok non mi sembra che abbiamo ho capito ho capito mi ricorda qualcosa che ho visto e serve per prendere la batteria dal generatore allora vabbè voi qui chiacchierate io torno un attimo alla redazione quindi prendiamo questo ok ok facciamo così scusami ho capito e questo non va bene ok allora non so torniamo lì torniamo lì mi sembrava una buona idea invece no ok andiamo qui vediamo se loro hanno idee ok ok E non c'è altro altro uso, ma il mio plenco, credo? È quello che ho detto Ok, come se tu andi a prendi il mio cheese prima, invece? Ok, bene, ma ho bisogno di questo plenco Sì, sì, ora andiamo con te, sotto la banca Fammo che io piolasse, va? Non me fido per niente Eh, immaginavo Ok Dai, giù, giù, perfetto Ah, di qua Va bene Formaggio, dai Ottimo Ok Torniamo su Parliamo con lui Ok Dobbiamo dare direttamente il formaggio Ok Now you can do even more chores Yeah You know I'm sure I do Get cracking Lazy good for nothing Dammi l'asse Dammi l'asse La mettiamo La mettiamo qua Great That worked Ok Ok E prendiamo questo Ok Tornato su da solo Mettere le batterie Ok Ok Allora Allora Abbiamo oggetti Che non possiamo mettere a posto da soli Ok Non possiamo metterle a posto da soli Perfetto Quindi Allora Questo gioco Ho guardato su How long to beat E dovrebbe durare Un paio d'ore Un paio d'ore e mezza Quindi Questo video Per me è durato Una cinquantina di minuti Considerando che però Ho messo un po' di tempo Per Per preparare il tutto Sarà durato 45 minuti Frattutto Quindi Nel In Altri due episodi Dovrei riuscire a finirlo Questo gioco Spero Che il video vi sia piaciuto Spero che questo ritorno Di questa serie Vi sia piaciuta Per me Io Continuo ad essere molto affezionato A questo gioco Perché è stata La prima serie Gameplay Vere e propria Che ho portato Quindi Mi è sempre Rimasta nel cuore È stata la prima serie Che ho portato Per intero Ed è stata Una serie molto emozionante Mi raccomando Io ho già fatto Alcuni spoiler Sul Sulla storia Del primo bear Ma Mi raccomando Se non l'avete visto Guardate quella Perché Ce ne saranno Tanti di spoiler Altrimenti Quindi Vi ringrazio tantissimo Per aver visto fin qui E io Vi saluto Ci vediamo con il prossimo video Ciao tigri Ciao tigri Grazie a tutti.